Ancora droga e telefonini trovati nel carcere di Sanremo, lo evidenzia in una nota il SAP, sindacato autonomo della polizia penitenziaria, che sottolinea anche la necessità di incrementare gli organici degli agenti. Due cellulari di ridotte dimensioni sono stati trovati nascosti in una cella nel corso di una perquisizione straordinaria, disposta dagli agenti che sospettavano che vi fosse qualcosa di illecito. Il possesso di telefonini da parte dei detenuti è vietato, ma soprattutto pericoloso, in quanto si tratta di un sistema di comunicazione con l'esterno, senza controlli, che potrebbe avere ripercussioni negative sulla sicurezza del carcere. Per questo il SAP ritiene che l'azione di polizia debba essere maggiormente incisiva all'interno delle carceri, specialmente negli istituti di Sanremo e Genova Marassi, dove la popolazione detenuta è ampiamente in sovrannumero. Il segretario del sindacato Michele Lorenzo sottolinea che questi episodi non possono essere contrastati riducendo in Liguria, come sta accadendo, l'organico della polizia penitenziaria. Lorenzo ammette che l'amministrazione penitenziaria già nel 2018 ha investito circa 3,5 milioni di euro in acquisti e strumenti tecnologici per migliorare la sicurezza dei penitenziari, ma in Liguria di tale apparecchiature, secondo sindacalista, non si è vista traccia e nella regione pesa inoltre la chiusura del carcere di Savona.